Siamo da Audio Quality nella sala principale per dare un'occhiata principalmente al nuovo Sony WPL WW790S che insomma abbiamo già verificato prima con ovviamente con uno spettrometro e poi con una meravigliosa Klein K10A in dotazione a Francesco Aliotta e abbiamo insomma dato già un'occhiata e poi di cui leggerete nel first look ma poi insomma approfittiamo anche della saletta e della disponibilità di Francesco per dare un'occhiata finalmente all'Envy, al Madi VR Envy che è stato aggiornato finalmente alla revisione 1.0 noi ce l'abbiamo avuto per un po' di tempo in redazione, avevamo comunque un accordo per non entrare troppo nel dettaglio però adesso finalmente possiamo dare uno sguardo alle insomma principali prestazioni vere e proprie che vediamo grazie appunto a questo 790 calibrato ed è anche interessante fare un confronto tra appunto l'HDR dinamico tra virgolette che fa ADVR e quello fatto dal Sony oppure anche quello fatto dal GVC come è stata innanzitutto questa calibrazione del 790 rispetto al 760 Francesco? beh diciamo che siamo assolutamente sulla stessa piattaforma quindi per avere una calibrazione più precisa bisogna accedere col software dedicato al menu di servizio perché i comandi diciamo nella grafica utente non sono così profondi una volta fatto accesso al menu di servizio si riesce a tirar fuori una ottima linearità un'ottima copertura del gamo quindi da questo punto di vista nulla di nuovo anche con una calibrazione col menu utente comunque abbiamo tirato fuori delle prestazioni comunque incoraggianti adesso invece passiamo al succo quindi vediamoci un attimo l'envi per quanto riguarda i contenuti HDR abbiamo messo qui abbiamo comunque lo schermo il solito Darkstar 9 di cui stiamo utilizzando un'area di circa 3 metri 273 di base ricordiamo che siamo comunque col proiettore abbastanza lontano quindi l'ottica è un po' chiusa come zoom però stiamo sopra le 65 candele sul metro quadrato se non sbaglio abbiamo impostato il controllo contrast HDR a 55 che è un buon compromesso tra visibilità dei particolari sulle alte luci e luminosità generale e poi c'è appunto oltre il bilanciamento del bianco abbiamo nel menu cinema black pro che scompare il contrast enhancer e arriva questo dynamic HDR enhancer che è in tre posizioni high, middle e low che ovviamente comprimono un po' la gamma dinamica però si attivano tutti quegli automatismi e abbiamo già provato in off in cui comunque la macchina è troppo scura come quello che accadeva a tempo fa e invece adesso ci guardiamo diciamo la summa di quello che abbiamo trovato come migliore impostazione che è il dynamic HDR enhancer in middle e ripeto il contrast HDR a 55 e la luminosità brightness a 55 allora quindi vediamo prima il Sony 790 liscio con i contenuti in HDR allora partiamo col capitolo 4 allora facciamo una pausa allora qui adesso aumento in parte gli ISO in modo da farvi vedere un po' di più sulle basse luci quello che succede perché questa è la parte importante vediamo innanzitutto come è importante il controllo della luminosità perché di default è troppo chiuso invece insomma prendo leggermente a 55 diciamo fino a 56 ci si può arrivare tranquillamente e poi vediamo come invece agisce la compressione della gamma dinamica sui tre livelli troppo scuro spento proprio non ci siamo per niente lo da utilizzare probabilmente con schermi di piccole dimensioni molto piccoli sì sotto i 100 pollici e in questo caso diciamo che middle ci siamo diciamo in estrema analisi si può andare su high anche se poi rischiamo di perdere un po' troppi di particolari è vero che su high abbiamo trovato l'impostazione migliore per i film gradati molto bassi tipo Blade Runner giustissimo sì è vero sono sceso a 250 ISO qui insomma i particolari sulle alte luci ce ne sono abbastanza facciamo un fermo immagine qui sì diciamo che ci sono qui ovviamente il rischio è di tenersi di non andare troppo in alto con il contrast hdr perché insomma la possibilità di bruciare vedete tutti i particolari sul rosone in alto è sempre in agguato diciamo che già 65 per quanto riguarda Aquaman ovviamente è un'impostazione utilizzabile diciamo che 55 è più conservativa e anche di qua con il nuovo menu dynamic hdr nancer in alto insomma l'immagine perde sicuramente dinamica però acquista luminosità per gli schermi quelli più più grandi quindi in low probabilmente sarebbe quella più giusta ma insomma middle una cinquantina di candele in più sì 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 vediamo invece l'altro l'altra bestia nera dei proiettori hdr che è The Meg passiamo al capitolo 8 e qui purtroppo già vediamo che i particolari sulle alte luci praticamente non ci sono in questo caso però veramente siamo al limite ce ne sono pochissimi di film gradati in questo modo vediamo che già il controllo classico contrast hdr dovremmo scendere sotto i 50 vedete per iniziare a vedere i particolari sul cielo e qui a 55 diventa veramente difficile vedere qualcosa sarebbe comunque una coperta un po corta secondo me perché anche ripristinando quei dettagli la dinamica media il contrasto medio ne patirebbe parecchio sono assolutamente d'accordo e anche con dynamic enhancer diciamo che la macchina non riesce a capire molto che dovremmo mettere dynamic hdr enhancer su low e piegarla in maniera decisa piegarla sì in maniera decisa perché in questo caso ecco potremmo scendere fino a 50 sì 50 forse anche sotto però poi avremo il problema sulle basse luci la coperta è corta purtroppo l'intelligenza artificiale ancora non è così intelligente a capire esattamente cosa deve fare sono sporadici i casi pochi dischi sono gradati così in maniera estrema quindi diciamo che con la maggior parte dei dischi non ci saranno problemi e adesso vediamo invece cosa fa il maddvr envy qui invece abbiamo acceso il maddvr envy vedete come sulle alte luci insomma i partitori ci sono c'è una dinamica pazzesca anche il dettaglio esce fuori con più semplicità con più energia sì infatti anche al di là del tone mapping qui noi che siamo qua live possiamo vedere il dettaglio quanto è salito purtroppo in registrazione con la compressione non si vedrà questa cosa noi stiamo usando comunque una Lumix GH5S e comunque con la sua ottica che non può ovviamente catturare dettagli o risoluzioni originali ma neanche la dinamica perché qui abbiamo insomma una gamma dinamica che sarà più o meno di 11 stop qui credo che abbiamo una gamma dinamica di probabilmente un 14 stop sicuramente poi un'altra cosa che noi il proiettore se avessimo fatto il tone mapping dinamico sul proiettore aggiustandoci su questa scena qui avremmo probabilmente tirato fuori tutti i dettagli che stiamo vedendo adesso ma conviene con me che la dinamica il contrasto tra la parte centrale dell'immagine gli elementi più luminosi e quelli più scuri non sarebbe neanche lontanamente stato così vabbè diciamo lontana lontana no però certamente qui c'è una marcia in più in assoluto però vediamo le altre cose più cattive cioè rivediamo per esempio anche Aquaman che abbiamo visto prima questo invece è l'envy ovviamente il proiettore è tarato con gamma SDR quindi con gamma che abbiamo messo un 2.4 la curva di appoggio è quella abbiamo messo però un gamut nativo ovvero color space 2 con laser ovviamente al 100% le candele sono quelle e adesso però c'è di mezzo l'envy sempre l'oppo e rivediamo le due stesse scene anzi magari parti dalla 4 dall'inizio io metto gli ISO a 4.000 di nuovo anzi 12.8 abbiamo detto e qui diciamo questo è esagerato le ISO in realtà noi diciamo che abbiamo più o meno una visione più o meno così però per farvi vedere quanta roba c'è sulle basse luci addirittura con i colori cioè non vediamo più cioè è un verde scurito però cioè col colore non è grigia la collina dietro è verde ma è un verde molto a blumistà molto bassa è pazzesco è una collina ricogliosa adesso la vediamo prima non la vediamo vai avanti vai avanti quindi ripeto gli ISO sono esagerati ma sono per farvi vedere e qui vabbè qui devo scendere per farvi capire c'è una dinamica qui c'è un imbarazzo è pazzesca è imbarazzante anche qui apro tutto i particolari sulle basse luci sono imbarazzanti rispetto a prima cioè quello che viene fatto è quasi miracoloso scendiamo di nuovo a 200 qui sembra quasi che siamo abbastanza vicini rispetto a prima ma in realtà la tridimensionalità è aumentata in maniera vistosa accidenti eh sì eh sì assolutamente sì vediamo anche la leggibilità dei dettagli nel rosone la leggibilità dei dettagli nel rosone qui è molto molto marcata assolutamente si vedono anche questi micro dettagli li vado a indicare che prima non c'erano cioè non ci sono solo questi elementi ma ce ne sono altri in mezzo qui che prima non si vedevano che invece adesso vengono fuori in maniera proprio molto più semplice evidente mettiamo The Revenant avanti con gli ISO per farvi vedere che insomma sullo sfondo qui possiamo giocare anche con questo vediamo un po' così vediamo anche un po' il menu questa è la cosa insomma interessante dell'Envy che è un DSP DSP video un processore video puro insane eh sì 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 ma dico lo fa con delicatezza cioè i particolari in più che vedo che sono quelli che mi aspetterei di vedere sono resi con le giuste proporzioni tra bassissime luci e basse luci spettacolare spettacolare vediamo anche il pezzo sulle altissime luci oh mio dio qui se vuoi io posso togliere il top mapping direttamente da qua in tempo reale è pazzesco veramente è pazzesco è pazzesco è pazzesco ci aspettavamo entrambi forse qualcosa di più i problemi nel 70% dei casi per quanto riguarda l'HDR quindi cosa buona e giusta sei cattivissimo 70% io direi anche 80% 85% sì 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 ci sono e poi quindi la macchina è ancora più interessante rispetto al prezzo che ha sull'HDR dinamico probabilmente il JVC ha una marcia in più il JVC va leggermente meglio capisce meglio di che cosa si tratta e si sposta in maniera adeguata però JVC ovviamente non laser come il Sony e invece poi c'è questo spettacolo dell'Envy del MADVR Envy che viene criticato da molti per il prezzo esagerato alla fine stiamo parlando di una macchina che è questa qui che stiamo utilizzando da l'Extreme sta intorno ai 12.000 euro però le stesse cose che noi abbiamo visto oggi abbiamo visto tutto materiale a 24 frame al secondo la fa la macchina inferiore che in questo momento di pre-sale è sui 6.790 euro che è una macchina è un processore video puro di HTPC non c'è niente perché c'è l'interruttore e se non c'è il segnale in ingresso le tematiche degli HTPC diciamo sono cancellati la stabilità ripeto l'ho detto anche io nel video che abbiamo fatto ieri di presentazione di Envy la stabilità era già ottima a marzo io l'ho avuto a casa per tutto il periodo del lockdown già lì lo mettevo sotto stress e non si è mai piantato è una cosa pazzesca stacca attacca cambia configurazioni ma è nessun problema già allora era adesso col film definitivo siamo proprio allo stato dell'arte e più ci sono le prestazioni che in realtà in parte conosciamo perché sono quelle dei DIMA DVR però qui abbiamo il grandissimo enorme vantaggio del tempo reale quindi possiamo andare dentro qualsiasi cosa con qualsiasi sorgente anche Netflix Amazon Prime Video cioè con una Nvidia Shield o con qualsiasi altro lettore 4K HDR che nella realtà purtroppo da videofili l'ho riscontrato che l'80% dell'utilizzo di un appassionato di cinema è quello e quindi non avere la possibilità di migliorare quel segnale che ne ha pesantemente bisogno è una cosa importante molto bene grazie Francesco per questa giornata grazie a tutti